Allora dicevamo la prima cosa che notiamo è che ci sono queste arance tra le scarpe, come mai? Perché abbiamo aggiunto colore a delle scarpe che già sono molto colorate e poi stamattina una signora mi ha chiesto come sono colciate le nostre pelli e allora gli ho raccontato che le pelli sono colciate con le essenze del territorio noi nel nord Italia conciavamo con le tre essenze principali che ci sono nel nostro territorio che sono il castagno, la quercia e poi la mimosa infatti il profumo del cuoio è profumo di mimosa e invece al sud dove c'erano le essenze di agrumi conciavano con le cortecce di agrumi e quindi le arance ci stanno bene tra le nostre scarpe